Salve a tutti ragazzi, sono Inferno86 e sono qui oggi per presentarvi come mio terzo video un gioco della Gameloft che non è ancora stato rilasciato in Italia e quindi sarò io il primo youtuber a parlare. Il gioco si chiama Zombie Anarchy ed è ambientato in uno scenario apocalittico di invasione zombie. E voi come sopravvissuti dovrete creare la vostra base e difendervi sia dagli zombie sia da altri sopravvissuti che vi attaccheranno per rubarvi le risorse. Ora vi spiego il menu di gioco e poi via con il combattimento. Come potete vedere qui avete la vostra base, il mezzo e il vostro quadro generale, poi le risorse e le difese. Qua dietro troviamo degli spazi che mano a mano che salirete di livello potete sbloccarli per metterci altre risorse o altre difese. Guardate l'ambientazione, è veramente carina, quindi vi consiglio di scaricarvi questo gioco perché è veramente bello. In basso a sinistra troviamo le missioni personaggio dove dovete compierle per prendere dei premi o prendere le stelle che vi serviranno per salire di livello. Subito dopo troviamo il menu creazione dove potete creare delle difese, delle risorse o altre difese che vi serviranno per rendere la vostra base inespugnabile. In basso a destra troviamo la mappa Questa è la mappa Nella mappa potete trovare basi zombie che potete attaccare basi di altri giocatori oppure missioni personaggio Ma ora andiamo ad attaccare una base zombie Porco cane quanti zombie Ecco qua, questa è una base zombie Qui dovrete attaccare tutti gli zombie Poi attaccare le risorse e attaccare l'hq per distruggere tutto Ora schiacciate attacco Qui in questa striscia azzurra dovete selezionare il punto d'entrata Quindi selezionate il punto d'entrata Ed arriveranno i vostri eroi Che distruggeranno tutto Qui a destra avete una bomba Dove potrete lanciarla per distruggere qualsiasi cosa voi vorriete Ogni volta che distruggerete una risorsa Vi usciranno dei punti fuoco Che vi serviranno Per sbloccare la mossa del vostro personaggio Alla fine di ogni battaglia Vi comparerà un livello bonus Qui dovete sparare con il fucile mitragliatore e gli zombie Per prendere i premi che hanno sotto di loro Ora vi faccio vedere Come attaccare un altro giocatore Ecco qui la base di un altro giocatore Attaccate Decidete il punto d'entrata E distruggete tutto Cercate di distruggere prima le torri Per non perdere i vostri personaggi Cercate di distruggere i vostri personaggi Guardate che bella ambientazione C'è il cammincino che sta ammazzando tutti gli zombie E' veramente un bellissimo gioco A mio parere Adesso come sempre il livello bonus Quindi scegliete gli zombie che volete E prendete i primi che hanno sotto Durante la battaglia è stato ucciso Un nostro eroe Quindi premete l'icona in basso a destra E curatelo In questo modo curerete in una volta sola Tutti i vostri eroi Appena saranno pronti potete rifare un nuovo attacco Ok ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E vi ricordo di mettermi un mi piace Alla fine del video E di iscrivervi al mio canale Ah dimenticavo Nel mio prossimo video vi farò un tutorial Di come trovare i giochi all'i fuori del Play Store Grazie a tutti Ciao Ciao